Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre 2023. Ok, abbiamo la luna. Amici dello Scorpione, periodo di riflessione interna mi verrebbe da dire. Quando c'è la luna si parla di sogni, si parla di anche appunto proiezioni, si parla di inconscio, è l'inconscio che viene a galla. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo come sempre che le letture sono generali, sono collettive, quindi è facile che non vi risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Bene, la vedete anche scritta qui e nelle info del canale. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. 9 di coppe, non male, fante di coppe, re di spade, cavaliere di bastoni, 3 di bastoni, 2 di spade, e re di pentacoli. Allora ragazzi, devo dire che si parte bene, perché si parte da questo 9 di coppe, da questa sensazione di appagamento, di risultato raggiunto, di completamento, abbondanza, agiatezza. È la carta del sogno compiuto, il 9 di coppe, e quindi è come se avesse raggiunto un risultato. Abbiamo poi anche questo fante di coppe, potrebbe rappresentare un figlio o la vostra persona di interesse. Tenete presente che queste sono letture appunto generali, possono vibrare sia per la famiglia che per gli amori romantici o le amicizie. Quindi cercate voi di adattare il tutto alla vostra realtà. Allora ragazzi, questo fante di coppe può rappresentare una nuova idea, una nuova offerta che vi viene fatta, può anche essere una nuova amicizia. Ma ho come la sensazione con questo re di spade, che siate un po' rigidi nel accettare o valutare questo tipo di offerta. Andiamo a vedere il 9 di coppe, vediamo carta per carta, abbiamo il sole, cavaliere di denari, qui abbiamo il re di denari, imperatrice, re di spade nuovamente, e tre di bastoni. Vi dico ragazzi, allora per qualcuno può essere la nascita di un figlio o di un bambino all'interno della famiglia, qualche cosa che è successo diciamo così da poco, ovviamente non è per tutti, però sta di fatto che con il sole e l'imperatrice si parla di prosperità, di abbondanza, ma infatti sì, si parte da un 9 di coppe. Probabilmente c'è una crescita di quello che è il sentimento, piuttosto che la relazione, piuttosto che l'amicizia, è come se ci fosse una prosperità di base, diciamo. Andiamo a vedere questo fante di coppe. 4 di spade, 6 di bastoni e 10 di bastoni. Allora vi dirò, può essere che, ve la dico come, la prima cosa che mi è venuta è stata che qualcuno vi potrebbe invitare ad un seminario, ad una conferenza, ad un workshop, a un qualche tipo di evento dove c'è da fare uno spostamento minimo, mi viene da dire. Andiamo a vedere il re di spade. Però di nuovo, anche qui ho come la sensazione che questa offerta sia qualche cosa che stavate aspettando da un po'. E poi abbiamo questo 6 di bastoni, che è una carta di successo, di riconoscimenti. Allora, per il re di spade abbiamo un 5 di coppe e la ruota della fortuna, al contrario. Allora, il re di spade normalmente ha un'energia conservatrice, tradizionalista, un po' autoritaria anche. E qui sembra che ci sia qualche questione legata al passato, qualche dinamica mi verrebbe da dire, che non cambia e avendo un 5 di coppe come la sensazione che siate un po' troppo focalizzati e rigidi a livello mentale. E questo fa sì che appunto voi non cambiate questi schemi di comportamento. Tenete presente che il 4 di spade è una carta di guarigione. È una di quelle carte che dice che c'è bisogno di guarire la mente. E il re di spade è proprio una carta che fa riferimento alla mente. È come se foste talmente tanto mentali da non riuscire a cambiare questo schema di comportamento. Vediamo il cavaliere di bastone. Tra l'altro, il re di spade potrebbe essere una persona... Sì, potrebbe essere una persona del passato per qualcuno, eh? Con la quale si vorrebbe tornare o con la quale si vorrebbe un dialogo. Perché comunque c'è un 5 di coppe, come se ci fosse stata una perdita. Magari avete perso proprio questa persona. Allora, per il cavaliere di bastoni abbiamo un 7 di bastoni, un fante di spade e la carta del mago. Qui, a quanto pare, ragazzi, manca un'iniziativa, manca un movimento. È come se non sapeste bene da che parte andare. Vi dico, è come essere di nuovo, c'è un fante di spade. È come se fosse in una fase troppo mentale e troppo poco passionale, troppo poco emotiva. È come se non aveste... Perché sono due carte di azioni queste. E quindi è proprio come se vi mancasse quella determinazione per arrivare là dove volete. Per avviare, mi verrebbe da dire, questo cambiamento a livello di pensieri, a livello di rigidità mentale. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo il giudizio. E la luna nuovamente. Di nuovo, sono due carte che richiamano il passato, ragazzi. Ho come la sensazione che qui ci sarà nella quarta settimana di ottobre una sorta di presa di consapevolezza per quello che riguarda le paure, l'inconscio che viene a galla, quello che vi ho detto un po' qui prima, no? Le proiezioni che voi avete. È una carta di rinascita anche il giudizio, ma sono due carte che parlano di passato. Allora, per qualcuno mi dirò, potrebbe arrivare una telefonata da parte di una persona del passato. Per qualcun altro è più un ok. Ho capito quali sono state le mie paure, il perché ho paura di agire, il perché non so come muovermi, il perché mi manca questo entusiasmo, perché è fondamentalmente tutto un calcolo. E invece c'è bisogno forse di più trasporto. Vi dico, c'è un due di spade. È come se ci fosse qualche cosa che non vedete, ma fa un po' parte anche dell'energia della luna. Andiamo a vedere questo due di spade. Abbiamo un otto di pentacoli e una regina di coppia al contrario. È come se dovesse scegliere tra il lavoro e l'amore. O come è questa sensazione? Il due di spade parla sempre di un bivio. E qui, siccome abbiamo un otto di pentacoli girato al contrario, è una questione che può far riferimento appunto a un ambiente lavorativo. Tenete presente che quando la regina di coppia è girata al contrario è perché c'è un'emotività talmente tanto forte da mandarvi in dubbio. La regina di coppe è una di quelle carte che è completamente collegata con il proprio lato emotivo. Ma quando la testa è in giù è come se questo lato emotivo vi facesse soffocare in un certo senso. Ma io lo sento tanto qui con le paure. Perché in effetti voi siete mentali. E vi ricordo anche che comunque è la mente che crea sofferenza in base alle aspettative, in base a quello che ci viene detto, in base a come metabolizziamo le cose, alle credenze che abbiamo dentro di noi. Andiamo a vedere quest'ora di denari. Abbiamo un otto di coppe e un cinque di denari. È un po' come se vi dicessero ragazzi che per arrivare alla prosperità materiale, questa è una prosperità emotiva, questa è più una prosperità materiale. È qualcuno che ha costruito un regno, è un personaggio che è arrivato già ad un certo risultato. È come se avesse bisogno di lasciare indietro certe mentalità di carenza, di vittima, di perdita. Il cinque di coppe ce l'avevate anche qui, che è un'altra carta di perdita. È come se dovesse lasciarvi indietro questa idea, questo avvenimento, quello che avete perso, insomma. Al tre di bastoni vedo che ce l'avete due volte, che è una carta di progettazione, una carta di qualcuno che si muove e va al di là di quello che aveva prima, no? Ma infatti qui avete il giudizio, è come se ci fosse una presa di consapevolezza gigante. È una carta di risveglio spirituale, ok? Magari è proprio un momento dove uscirete dall'ombra, da queste vostre paure, dalla proiezione, insomma. Andiamo a vedere un'altra carta con gli oracoli. Allora, se siete in coppia appunto al movimento, più o meno ve l'ho spiegato. C'è una sorta di appagamento iniziale, però poi è un po' tutto mente, rigidità mentale, poca passione, poca azione, le paure che vengono a galla, una forte emotività. E qua vi dicono che per raggiungere una stabilità caratteriale, una serenità, mi verrebbe anche da dire, una tranquillità, è utile cercare da dove arriva la vostra carenza, il vostro modo di pensare in versione negativa. Cioè, vi faccio un esempio. Quando semplicemente si dice costa tutto caro. Se voi continuate a pensare che costa tutto caro, tutto quello che troverete sarà caro per voi. Quindi cambiate questo tipo di pensiero. Non è costa tutto caro, perché il fatto che ci sia la parola caro sottintende il fatto che voi non ve lo possiate permettere, che è caro per voi, no? Quindi, trasformate la frase in un modo che per voi sia congeniale. Quindi, spendo di più perché valgo di più. Ecco, una cosa di questo genere. Cioè, piuttosto comprate meno pezzi, ma quelli che comprate li comprate più di qualità. Ok, andiamo... Ok, sono già uscite. Allora, qui parla di conversazione. Parla di parlare di più. Parla di messaggi di testo che arrivano. Comunicazione. Parla di email. Parla anche di hovering. Che è un po' quello che vi dicevo qui. Potrebbe esserci qualcuno che torna dal passato. L'hovering, ve lo metto qua così. Lo cercate su YouTube. E hoover in inglese è l'aspirapolvere. Quindi qui si tratta di qualcuno con il quale o la quale avete già avuto magari una relazione di un certo tipo e che cerca di aspirarvi. Di, diciamo così, riagganciarvi. E poi abbiamo anche una telefonata di amore. Quindi qualcuno vi esprimerà il proprio amore. Potrebbero arrivare dei messaggi. O comunque qualcuno vi farà sapere, insomma, che ci tiene. Bene, vi dico, qui per molte persone arriva la telefonata. Quindi la sento parecchio questa energia. Ok, andiamo a vedere, ragazzi. Ah, in questa zona della lettura può anche essere che qualcuno decida di trasferirsi a livello lavorativo perché non vuole più vedere questa persona, soprattutto se è una conoscenza fatta appunto in un luogo lavorativo. Questa carta vi dice, quando sono collegato con la mia gioiosa presenza, attraggo il supporto dell'universo. Un po' come se vi dicesse, sintonizzatevi sulle vibrazioni positive in modo da poter attirare vibrazioni positive. Amici dello scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, insomma, per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividervi il video o abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti parlo di temi di metafisica, esoterismo, insomma, come manipolare l'energia. Mentre, per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso basato sul lavorare alle credenze limitanti. Però questo percorso tratta una parte di temi di quello che è tratto poi nella sezione degli abbonamenti. Quindi diciamo che la parte degli abbonamenti è più completa. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!